E' un'altra parte In balzo per Jesi che conduce con Esbruck Pick and roll lontano da canestro con Rinaldi Che classe che è in Esbruck Si alza dalla media e ne manda per sai gli altri due Sono in stagione Green da tre punti Ancora Marquis Green Massone finta il tiro Ci casca Lollopenna Va fino in fondo Bravo Federico di Manomancina Ne deposita due al vetro Il vetro di 24 Per l'azione di Jesina Riceve piccoli e l'evento era per Kenny Esbruck Poi c'è la zona Della squadra di Cavina A rimbazzo in attacco Luca Fonticchio Servi immediatamente Esbruck Per una transizione veloce Mandalbar Gasparin si alza per la tripla Prova ad attaccare Poi si ferma Esbruck per Marini Dall'altra parte Si prende il tiro Pierpaolo Marini Signori tiratori della squadra Green col pallone per Esbruck Si prende la conclusione a tre E la sbaglia Green fino in fondo Per Renati Dall'angolo Da due punti Belli penetrazioni Piccoli con lo soppone Cade male Bell Cenale Esbruck da tre punti Ma che canestro è questo Dopo il pick and roll Sette secondi su Cronometro e 24 Marini il tiro in allontanamento Finisce qui l'incontro A termine di una serata In cui Iesi Ha fatto vedere cose Davvero davvero eccellenti E tutti i tifosi Iesini Possono essere molto fiduciosi